Ci sono due trattati internazionali, l'ultimo è il 2014, e questi due trattati internazionali dicono che l'opera si fa. Sì. Quindi, se un Parlamento impegna un governo al rispetto dei trattati internazionali, impegna il governo a fare l'opera. Poi uno mi potrà dire che qual è l'opera prevista all'interno della... è la galleria di base. Allora, se la galleria di base si fa, possiamo discutere su opere e accessorie che sono previste non dal trattato, ma opere di viabilità e altro, cosiddette compensative, e su quelle credo che ci sia tutta la disponibilità.